Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, Natale è arrivato, almeno su Destiny e come sapete ogni volta che c'è il Natale c'è un evento e se c'è un evento c'è Eva Levante. In questo video andiamo a vedere come funziona l'aurora, cosa c'è da farmare e quali sono i metodi più efficaci per farmare essenze, ingredienti e spiriti dell'aurora per i trionfi ma soprattutto per qualche buona arma che potrebbe tornare utile. Quindi iniziamo. Prima di iniziare vi ricordo che da oggi a reset, cioè giovedì alle 18 in poi, sarà possibile riscattare questo emblema su Twitch. Per farlo basterà entrare su Twitch, controllare che la stream abbia l'estensione ufficiale di Destiny attivata, associare l'account di Bungie a quello di Twitch e regalare due sub, cioè quindi due abbonamenti. Una volta fatto, dopo qualche minuto vi troverete la ricompensa direttamente su Twitch da riscattare poi in gioco. Noi domani saremo in live ovviamente fino a sera per tutti quelli di voi che vorranno accaparrarsi questo emblema. Comunque torniamo all'evento dell'aurora e vediamo un po' come funziona prima nelle basi e poi vediamo come farmare al meglio tutto perché so che alcuni di voi è diciamo la prima volta che avete a che fare con il forno, con i biscotti e tutto il resto. Quindi da questo punto di vista vi posso già dire che Bungie ha semplificato alcune cose, mentre prima le ricette erano nascoste e bisognava scoprirle una per una. Ora le ricette sono già tutte belle pronte anche per quelli di voi che dovete farli tutti per la prima volta. Per fare i biscotti ovviamente dovete accedere al forno che trovate tra le vostre imprese e qui trovate i biscotti con tutti gli ingredienti che vi servono. Subito sotto trovate i singoli ingredienti che vi aiuteranno a capire dove ottenerli, ci sono quelli primari e quelli secondari. I primari sono quelli verdi che droppano da qualsiasi nemico senza nulla di particolare, quindi il burro corrotto dai corrotti, l'olio di cabal dai cabal e così via. I secondari sono quelli invece che hanno bisogno di fare cose particolari e cioè usare armi, abilità, super o corpo a corpo eccetera eccetera anche qui in base a quello che poi ci servirà. Comunque qui trovate tutta la lista e se vi manca qualcosa vi basterà passare sopra il cursore per vedere appunto come ottenere questo singolo ingrediente. Tip numero uno, vi consiglio prima di passare al farming di fare tutti i biscotti in modo da rendere il forno leggendario. Facendo in questo modo vi chiederà 10 essenze anziché 15 per ogni biscotto, quindi è sicuramente un buon risparmio che vi permetterà di guadagnare qualcosa in più quando andrete a farmare appunto i biscotti. Essenze dell'aurora che è il terzo ingrediente generico che serve per fare i biscotti, le essenze si droppano invece dalle attività ad ogni completamento. Quindi bisognerà trovare cose facili e veloci da fare per prendere appunto queste essenze, ma le vediamo tra poco. Però perché farmare questi biscotti? Allora ci sono due cose principali, la prima ovviamente sono i trionfi, quindi per tutti quelli di voi a cui piace avere quel punticino in più all'interno dei trionfi è una cosa appunto da fare. Oppure le armi, armi tra cui una nuova spada da stasi che ha anche dei nuovi perk interessanti, in più ci sono le tre armi precedenti dell'aurora tra cui il glacioclasma che è sicuramente in cima alla lista secondo me da farmare, il valanga che è una mitragliatrice pesante e il frontefreddo, mitraglietta cinetica altrettanto interessante. Per farlo dovremo ottenere i pacchetti dell'aurora, questi pacchetti si ottengono appunto consegnando i biscotti in modo completamente random. Una cosa buona che hanno aggiunto quest'anno è sicuramente la possibilità di concentrare tra virgolette il nostro loot e con un pacchetto da parte e un po' di spirito dell'aurora potremo scegliere due pacchetti e restringere il campo tra fusione o valanga, quindi in questo pacchetto sulla sinistra, oppure tra spada e mitraglietta con quest'altro pacchetto. Sempre da Eva troveremo diversi potenziamenti che ci aiuteranno in questo farming, tra cui questi due che sono i potenziamenti secondo me più importanti, che sono quelli relativi ai perk, che ci danno la possibilità di avere una chance di trovare le armi con due perk nelle ultime due colonne. Questo per far aumentare di più la possibilità appunto di trovare il roll che vogliamo. Ok, quindi ci manca solo l'ultima valuta dell'evento che è proprio questo spirito dell'aurora di cui vi ho parlato poco fa, che ci servirà anche per concludere le due quest iniziali dell'evento. Le quest iniziali naturalmente non le stiamo trattando in questo video perché insomma sono abbastanza semplici e si spiegano abbastanza da sole. Comunque, lo spirito lo otterremo consegnando biscotti, completando i trionfi, completando le taglie di Eva Levante e poi avremo la possibilità di dropparli anche a caso con un piccolo trick, e cioè quello di usare la navicella dell'anno scorso dell'aurora, che ha dei perk specifici tra cui quella di droppare uno spirito ogni volta che dropperete un ingrediente qualsiasi, e che quindi vi aiuterà tantissimo durante questo farming. Se non avete la navicella dell'anno scorso, beh, non preoccupatevi perché non avete... Se non avete la navicella dell'anno scorso, beh, non preoccupatevi perché sarà molto semplice ottenerla, perché la otterrete da Eva, la trovate da Eva qui nel secondo tab del suo inventario. Quindi prendetevi la navicella, mettetevela e attivate l'ultimo perk. Bene, quindi ora che abbiamo parlato del funzionamento dell'evento, andiamo a vedere come farmare in maniera efficiente, parliamo dalle essenze, che è forse la cosa più noiosa da fare. Per le essenze ad oggi, per quelli di voi che hanno le stagioni precedenti, sono sicuramente le cacce all'endo furie, soprattutto quella sulla città sognante con Xillox. Per prendere il massimo di essenze possibili, quindi 15, dovrete settare l'esca in questo modo, quindi scegliere l'esca principale, in questo caso appunto Xillox, la seconda lasciarla vuota e nel terzo mettere un perk qualsiasi, un a caso. Se non avete l'esca nell'inventario, perché l'avete cancellata nelle stagioni precedenti, oppure non lo so, potete tornare dal corvo sulla riva contorta per prenderne un'altra. Una cosa importante da fare per non sprecare risorse è quella di ricordarsi di togliere l'esca una volta che avete fatto partire lo step del boss. A questo punto andate avanti, uccidete il boss, che sarà molto semplice da uccidere, prendete le vostre essenze, tornate in orbita, e quindi uscite dall'attività, e rimettete l'esca, come vi ho detto prima. Tornate al punto di spawn, fate l'orco, rifate partire di nuovo la caccia, togliete l'esca e rifate tutto questo procedimento all'infinito, o quante volte insomma volete farlo. Per tutti quelli di voi che invece non hanno le stagioni precedenti, in questi giorni c'è Pandemonio disponibile nel Crogiolo, che è una playlist molto veloce da fare, che vi permetterà di ricevere un po' di essenze in maniera abbastanza veloce. Altrimenti date sempre un'occhiata anche ai settori perduti leggendari, che magari ce ne sta uno molto veloce da fare, per esempio come è successo ieri. Oppure un grande classico, cioè il lago d'ombre nella zona morta europea. Se siete in una squadra da tre e sarete molto veloci a farle, nel giro di pochi minuti riuscirete a prendervi qualche essenza. Per gli ingredienti, beh ci sono svariati modi, il primo è sicuramente quello più semplice, cioè giocando. Nel senso facendo qualsiasi attività troverete sicuramente la maggior parte degli ingredienti, ogni tanto cambiando arma, ogni tanto cambiando sottoclasse, eccetera eccetera. Sono tutte cose che si droppano semplicemente giocando. Se invece ne cercate di particolari perché volete farmare un biscotto solo, per trovare poi i pacchetti, beh lì avete bisogno di alta densità di mob, e quindi il luogo numero uno è sicuramente il trono infranto prima del boss, dove spawnano gli schiavi all'infinito. Lì potete mettervi, appunto lì, tranquilli, e fare tutti gli ingredienti secondari che volete con tutti i tipi di arma che volete. Però ovviamente per quelli primari troverete soltanto il burro corrotto. Per tutti gli altri, beh dovrete trovare un posto dove sapete che ci sono quei tipi di nemici, magari un settore perduto dove sapete che ci sono i cabal, o un settore perduto dove ci sono i caduti, un evento pubblico magari dove ci sono gli infami, e così via. In questo modo tutto dovrebbe essere veramente super semplice. Come vi dicevo, farmando i biscotti troverete i pacchetti, dai quali potrete prendere le armi dell'evento, e tra tutti potrà essere una buona cosa da trovare il Glacio Clasma. Il fusione ad impatto elevato con un roll molto interessante, che è stato aggiunto appunto quest'anno rispetto a quelli dell'anno scorso, ed è sicuramente quello con batteria rifornita nell'ultima colonna, che è lo stesso perk che ha il compostezza nulla, e sapete quanto può essere utile sia per fare il 25% di danno in più, e sia per far esplodere i nemici. Nell'altra colonna ha altri due perk interessanti, il primo è Sussistenza, che può essere utilizzato per ricaricare subito il colpo in canna, e quindi avere sempre il buff attivo dopo aver fatto una kill, o altrimenti c'è anche scivolata amplificata, che vi permette di ricaricare un colpo dopo una scivolata. E quindi se entrate un pochino nel mood del gameplay di sparare un colpo e scivolare, sicuramente è un'arma molto molto forte da avere nel nostro inventario, soprattutto fino a febbraio, perché i fusione, come sapete, sono sbroccati. Bene, quindi ragazzi, questo è tutto quello che c'è da sapere in questo momento sull'evento dell'Aurora, come sempre qui sotto nei commenti fatemi sapere quali altri metodi di farming state utilizzando, in modo da rendere utile la sezione qui sotto per tutti quelli che stanno cercando informazioni utili. Io spero, come sempre, che il video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.